Finito in minoranza nel Consiglio federale del suo partito si è dimesso il segretario dei socialisti spagnoli Pedro Sanchez. La sua proposta di indire primarie e congresso per l'autunno è stata respinta con 133 voti contrari e 107 a favore. Sanchez aveva già escluso di restare se la sua linea non fosse stata quella del partito. Il risultato del voto è stato contrario alla proposta della Commissione esecutiva federale. Di conseguenza, come avevo già annunciato, nel caso che la proposta non avesse il sostegno necessario, non sono in grado di amministrare una decisione che non condivido. Con la sconfitta di Sanchez cade anche il rifiuto socialista di astenersi davanti a un governo di minoranza del Partito Popolare guidato da Mariano Racoi. E questo potrebbe sbloccare la crisi politica dopo due elezioni anticipate, dalle quali non è uscita alcuna maggioranza parlamentare. Grazie a tutti.